Alla prima pausa di Lugano Zugo abbiamo il piacere di avere il trio delle meraviglie il presidente quello che paga l'allenatore quello che mette in piedi la squadra e quello che fa vincere i titoli giustissimo bravo bravo è proprio ragione io ho ancora un pranzo da prendere perché io al pranzo della vittoria non mi avete invitato quindi io ho una cena che mi viene va bene prossimo anno serviremo la cena ci parli un po degli acquisti o delle cessioni dei tuoi ragazzi dai dacci qualche anticipazione non sono io che devo parlare di questo ma c'è l'allenatore che è lui e il suo compito non è il mio compito il mio è tutto un altro quanto sei felice della stagione dei tuoi ragazzi allora ancora l'altro giorno mi hanno detto tu porti il 41 di scarpe perché io lo vedo guardo su e vedo che è il 41 di scarpe talmente che volo alto più felice del titolo o più felice di averlo vinto in casa dei cugini felice per il titolo per il titolo in ogni caso dopo per i cugini peccato per loro andiamo con l'attore io quando sono arrivato la prima volta a fare la prima telecronica non avevo ancora capito e forse ancora adesso non ho ancora capito la differenza fra la pallina e il disco infatti qualche volta nelle mie telecroniche avrai sentito il disco qua quanto se quanto capisco di questo sport delle mie telecroniche o non capisco niente ah no devo dire che ci hai portato fortuna quindi ne capisci tanto disco pallina non fa differenza ci hai fatto vincere il titolo e quindi questo va bene anche il prossimo anno ti vogliamo a lasciare serena anche se io sono del lugano tu sei dall'ambri fa niente fa niente fa niente va bene lo stesso senti quanto sei stato felice di aver girato una serie che a un certo punto sembrava indirizzata in casa maglia giallonera ma quello che mi piace proprio che si pensava che era indirizzata di là eravamo molto fiduciosi ed ero sicuro ero sempre tranquillo chiaro può andarti tutto male anche se sei tranquillo ero consapevole delle nostre forze l'abbiamo portata a casa senti nella campagna qui sei riuscito a trovare un difensore più forte di quel brocco qua o no ma diciamo che l'ho trovato è stata la sua riconferma vita al malcantone quindi va bene così ah non ti hai trovato uno al suo posto no ha firmato vita al malcantone quindi va bene va bene così ci ho messo un anno a corteggiarti se volevo intervistare la belen avrei fatto meno fatica che intervistare te adesso che hai vinto ti chiamo il numero del 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 campionato fai il gol decisivo quanto sei felice da parlare con me moltissimo io ti avevo detto che avrei parlato con te quando avremmo alzato la coppa di ogni tanto mi hai detto quando vinco anche vinco sua casa dei cugini parlo con te e sei stato di parola anche se hai parlato con una partita di ritardo perché dovevi parlare la partita prima quindi no anche questa questione qua di numeling dello skater mi sembra un po eccessivo no ma io ti parlo proprio lo stile di gioco il tuo tiro dalla linea blu chiamiamolo io chiamo la linea blu per capire ancora di occhi cioè è un po uno stile offensivo più che difensivo lui può confermarlo io sì sono più offensivo che difensivo ma sicuramente ognuno di noi giocatori ha una caratteristica diversa io mi sento un buon giocatore non è che sto lì a dire numeri qui numeri perché effetto vi fa comunque a vedere andare in piste dove gioca l'ambri dove gioca il anno con tanta gente e vedere che anche voi vi battono le mani per il vostro sport magari minore però che siamo in ticino quest'anno poi è stato affascinante con due squadre sicuramente bello soprattutto dopo questa stagione qua che abbiamo avuto appunto una finale tutta quanta ticinese devo dire che è bello l'ultima cosa a fare a fare la preparazione penso che forse sia la cosa più antipatica per voi perché sappiamo benissimo che insomma durante la settimana magari ci si allena un po di meno perché ci sono le partite adesso non avete scusate l'obiettivo è supercoppa con una condizione a Luca eh eh dici bene ma eh la la stagione se vuoi inizia subito quando finisce è il tuo tempo e inizialmente quando è vero sono un po' più noiosi allenamenti a secco palestre e quanto però parte già da lì la stagione se metti un po' di impegno e sacrificio poi arrivi a ottenere risultati l'ultima cosa coach ci parli di ho saputo che qualche tuo ragazzo lascerà il mercantone ne arriverà qualcuno ci puoi dare se puoi dare anticipazione di qualche giocatore che arriva tanto qualcuno me l'ha già rivelato quindi non nascondi più niente ma non è che c'è tanto da dire nel senso eh diversi giocatori che hanno giocato la finale negli ultimi tre anni comunque lasceranno la squadra eh perché sono cambiati i progetti gli obiettivi rimane il mio amico in sei o sette ma non via hanno lasciato la squadra abbiamo parlato non facciamo più parte del progetto e arriverà Marco della Santa del Paradiso e Gabriele Curcio in porta dal sei a Luca e in più stiamo vedendo per un giocatore ma lo scopriremo poi la supercoppa lo confermiamo come lo confermiamo sì sì certo è già un pezzo che ho confermato già ancora all'inizio dell'anno vi lascio andare perché sta per iniziare Lugano Zugo vi faccio tanti auguri di Buon Natale Coccia Bomber e Presidente e quindi vi aspetto e spero che siete stati contenti della mia stagione va benissimo grazie buona festa ci hai portato il titolo grande ciao